È stato un percorso lungo e difficile per recuperare questo palazzo perché le opere pubbliche quando c'era la gestione della protezione civile non venivano finanziate. Successivamente è nato l'ufficio centrale per la ricostruzione dove noi abbiamo presentato un preliminare per chiedere il finanziamento ma subito quando siamo arrivati al dunco c'è stata la trasformazione dell'USRC, l'ufficio speciale per la ricostruzione dove i fondi per il recupero delle opere pubbliche ancora erano pochissime. Un accordo fatto con gli altri sindaci, il ricordo Pietra Camela, Fanadriano, Castelli, Colledara, Arsita e Penna Sant'Andrea hanno dato l'assenso praticamente, hanno dato la priorità a questa grande opere di Tossicia. Il 2 giugno alle 10 di mattina riaprirà i battenti il Palazzo Marchesale con il raduno delle autorità civili e religiose presenti nel territorio e con l'occasione ci sarà l'inaugurazione dell'esposizione che rimarrà per 10 giorni aperta al pubblico all'interno della sala consigliare del Palazzo Marchesale delle opere della pittrice locale annunziata a Scipione. Abbiamo con piacere aderito alla richiesta del direttore del museo di realizzare un prodotto che serve per portare il museo a tutti ai bambini, ai diversamente abili, nel pianeta, a tutti coloro che avranno modo di conoscere questa realtà che pur essendo piccola ha un grande valore sia con il tour virtuale dei principali elementi architettonici di Tossicia e poi con questa idea di portare i quadri di Annunziata a Scipione nel mondo attraverso un tour completamente virtuale.